Per te chi sono questi tizi? Dei traditori, suppongo. Penso che Avery o Thomas Tew vogliono solo spaventarci. Per fortuna siamo... Il ponte sembra solido come gli altri. Si ha resistito finora. Le ultime parole. Oh, attento dove cammini. Per la miseria, ma tu guarda che razza di posto. Siamo esattamente sotto la cattedrale. Credi che Reif e Nadine abbiano una vaga idea di cosa c'è sotto i loro piedi? Se hanno esplosivi a sufficienza, prima o poi lo scopriranno. Siamo esattamente sotto i loro piedi. Siamo esattamente sotto i loro piedi. Siamo esattamente sotto i loro piedi. Va a dare a me Bene, ci stiamo avvicinando alla cattedrale O a quel che mi resta O a quel che mi resta La fortuna quella cassa pesa più di te Ok Andata Qual è il piano? Ci sto lavorando Nathan, guardati intorno Porca vacca Questa deve essere un'altra prova Ma è franato tutto in mare Bene, immagino che ora la prova sia... Come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Che cosa è? Come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Grazie a tutti.